ciao benvenuti in questo nuovo video oggi vi faccio vedere che cosa ho combinato per il regalo della mia ragazza quindi volevo farle un regalo speciale e ho voluto farle un ritratto un dipinto tocco i colori d'olio da più o meno pochissimi giorni questo qui era il terzo e è venuto anche relativamente bene infatti con i colori d'olio ho già fatto un video che vi farò vedere qui da qualche parte poi ho deciso di fare quest'altro dipinto che è sempre una prova per chi dipinge magari è qualcosa di anche brutto però sono rimasto contento anche stavolta perché è venuto qualcosa di recente, io l'ho regalato, sono rimasto contento insomma vi faccio vedere innanzitutto che ho preparato la tela, ho ricalcato una foto di Gaia su questa tela quando si era asciugato il colore e poi ho cominciato a dipingere quindi ho cercato di riportare i colori in maniera non troppo fedele alla foto anzi avevo preso un'immagine in bianco e nero proprio perché volevo soltanto capire fondamentalmente i volumi dell'immagine non avevo interesse a vedere i colori veri perché tanto sapevo che non sarei riuscito a riproporli in maniera troppo fedele ho cercato di riproporre le tonalità della pelle al meglio che potevo e ci sono riuscito abbastanza bene non è fedelissima alla foto, nella foto Gaia era arrossata sulle guance, era un po' abbronzata, leggermente scottata mentre qui sembra un po' più naturale la posa perché mi è risultato più facile farla così farla arrossata era un po' più complesso però diciamo ovviamente quello che mi interessava è fare un dipinto che innanzitutto rappresentasse più o meno Gaia e che fosse carino e è venuto, diciamo da subito si percepiva che ovviamente stava avvenendo qualcosa di decente, poi ripeto non è nulla di che è pieno di errori devo migliorare tanto, per esempio mi sono trovato tanto in difficoltà con gli occhi perché si sono venuti diciamo abbastanza fedeli all'immagine però non sono riuscito a fare bene le ciglia infatti quasi non ce le hanno le ciglia, sono riuscito a fare soltanto un bordo più scuro ma ero in difficoltà sul fare proprio i peli fini, non so se è perché non ho pennelli molto sottili o perché come è più facile che sia è che probabilmente non ho ovviamente la tecnica però diciamo l'importante, quello che mi interessava sapere era capire se riuscivo a fare un volto se riuscivo a non allontanarmi troppo dalla fisionomia di questo volto e se riuscivo a mettere i punti di luce e punti d'ombra nelle zone corrette poi ripeto non è correttissimo però grossolanamente c'è un punto più illuminato c'è dell'ombra che viene fatta dai volumi del volto e quindi diciamo come esperimento, come terza prova di pittura d'olio sempre che è riuscita quindi fatemi sapere che cosa ne pensate di questo piccolo dipinto come grandezza è 20x25 mi sembra quindi non è grande però avevo abbastanza spazio per lavorare un soggetto semplice che è un volto se avessi dovuto fare una figura intera sarebbe stato di più un problema e nulla, fatemi sapere cosa ne pensate lasciate un commento che mi farebbe tantissimo piacere e iscrivetevi al canale se volete altri di questi contenuti noi ci vediamo ad un prossimo video buona giornata